E' stata eseguita dai carabinieri un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ad un 42enne di Melicucco, nel Regino. All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dall'ex moglie, oltre che il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa ed il divieto di avvicinarsi all'abitazione o luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. Il provvedimento ha avuto origine al termine di una delicata indagine condotta dai carabinieri, immediatamente avviata a seguito della denuncia presentata dalla donna. In particolare i carabinieri hanno riscontrato condotte gravemente lesive della dignità della donna, consistenti in atti di violenza fisica e verbale, mediante continue denigrazioni incentrate sulla forma fisica della persona offesa, un comportamento che aveva provocato ansia e preoccupazioni in più persone, tanto che la donna aveva dovuto mutare le sue abitudini di vita per evitare potenziali pericoli.